Gentili telespettatori, buona giornata. Vediamo un sondaggio fatto da EMG proprio del 23 ottobre del 2021. Fratelli d'Italia perde lo 0,4 ed è al 20%, primo partito. Secondo partito il PD sale dello 0,4 ed è al 19%. La Lega perde addirittura l'1,7%. Un tonfo gigantesco passa dal 19,5 al 17,8. Anche il Movimento 5 Stelle indietreggia dell'1,2%, dal 16,1 passa al 14,9. Forza Italia cresce dello 0,6 ed è al 7,6. Italia Viva cresce dello 0,8 ed è al 4,1. Azione cresce dello 0,5 ed è al 4%. Sinistra italiana cresce dello 0,2 e va al 2,2. Europa Verde al 2, articolo 1,1 e 9. Coraggio Italia 1,6 più Europa 1,5. Noi con l'Italia 1,4. Altri partiti 2%. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.